Ciao a tutti, sono Filippo Vidiz di FIL, Food Entertainment & Lifestyle. La mia vita individuale si trova all'azietà cohabitata in piazza Libertà 5 Barabì. Si occupa di comunicazione e marketing per le aziende di Food & Beverage, quindi offriamo un servizio a 360 gradi per le società che trattano caffè, tè, vino, birra, paste. Se avete piacere, seguitemi sul sito filagency.eu. Ciao a tutti, mi chiamo Massimo Battista, sono fotografo freelance che si occupa di fotografia tradizionale, quindi reportage, fotografia di scena, di teatro, ritratti, ma anche di aiutare le aziende a creare un proprio brand di immagine, quindi lavoro sulla comunicazione, non testuale, ma a livello di fotografie sia interne aziendali sia di profili aziendali. Sono qui grazie a ZKB che ringrazio per l'opportunità e gli spazi che mi sta dando. Buongiorno a tutti, mi chiamo Simo Rosaz, grazie al ZKB Starter ho deciso insieme al mio socio di fondare una nuova startup alla quale abbiamo dato il nome SlowMedit. L'azienda SlowMedit opererà in ambito medico diagnostico. Nell'attività principale utilizzeremo un particolare microscopio, un microscopio a campo scuro, col quale analizzeremo il sangue dei pazienti e tramite questa analisi potremo indirizzare meglio i pazienti verso le strutture ospedaliere adeguate. Oltre a questo utilizzeremo anche una stampante 3D per la scandalizzazione 3D degli oggetti vari e di parte del corpo. Sono Sara Matiacic, amministratrice di Nativi, società cooperativa. Nativi è un'azienda che si occupa di editoria e di comunicazione. Grazie a ZKB Starter stiamo sviluppando e implementando un sito e-commerce che permetterà agli utenti di Trieste e non di acquistare prodotti editoriali editi a Trieste e in regione. Buongiorno, sono Andrea Petronio, amministratore di Feature Jam, una startup innovativa che ha sede presso l'incubatore ZKB Starter. Siamo un'azienda che si occupa di information technology, internet of things e dispositivi wearable. Raccogliamo l'esperienza di alcuni ricercatori universitari, imprenditori e professionisti e ci proponiamo di sviluppare prodotti e servizi negli ambiti appena menzionati. Ciao a tutti, sono Elias Srebrenic, presidente di MitLab. MitLab è un hackerspace, ovvero un posto fisico dove appassionati di elettronica, informatica, robotica e tecnologia in generale possono incontrarsi e condividere idee, progetti e attrezzature. Ognuno dei nostri soci può accedere alle nostre postazioni di elettronica, di stampa 3D, alla nostra teleattrice laser e tutte le altre attrezzature presente in sede per realizzare i propri progetti in completa libertà. MitLab è aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 20 in poi. Veniteci a visitare presso gli spazi della ZKB Starter.